Musica Buonasera dal TG2000 Troppo presto per parlare di normalità Così il Premier Conte nell'informativa al Parlamento Lega e Italia Viva sono sempre sulle barricate Augusto Cantelmi Il Governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità Così il Presidente del Consiglio nell'informativa in Parlamento Sull'emergenza coronavirus Quindi preferisco dirlo forte e chiaro E preferisco dirlo qui in Parlamento A rischio di apparire impopolare Il Governo non può assicurare il ritorno immediato Alla normalità della vita precedente Riaprire tutto il 4 maggio sarebbe stato un rischio Ma se scendono i contagi Promette Conte Ci saranno allentamenti delle restrizioni A cominciare dalla vendita al dettaglio E a giugno Una possibile riapertura sperimentale Di asili nido e scuola materna Sul decreto aprile maggio Da 55 miliardi Sottolinea il Presidente del Consiglio Ci saranno misure a sostegno del lavoro Indennizi per la protezione sociale Bonus famiglie E fondo per il turismo Per Conte invece saranno considerate illegittime Le norme meno restrittive emanate dalle regioni Il clima in aula tuttavia resta tesissimo Soprattutto all'interno della maggioranza Con Renzi Che lancia un nuovo ultimatum Ma la politica è altrove Noi vi aspetteremo là Se lei sceglierà la strada del populismo Non avrà al suo fianco Italia Viva Se lei sceglierà la strada della politica La aspetteremo là Quale ultimatum? La risposta di Conte Facciamo politica Come chiede Renzi E all'attacco anche le opposizioni Con la Lega Che da ieri occupa il Parlamento Lo faremo fino a che in quest'Aula Non si daranno risposte concrete agli italiani Ed è scontro tra governo e regioni Sul piano delle riaperture Gli interventi di governatori di Campania e Veneto E la risposta del ministro Boccia Nel servizio di Massimiliano Niccoli Tutti contro tutti Il là alla diaspora istituzionale Arriva dalla Calabria Bar e ristoranti aperti da subito L'ordinanza scatena il putiferio Ma il presidente della regione Iole Santelli Va avanti per la sua strada E dice su Facebook Che le sue decisioni restano valide Poco fa però l'alto là del ministro Boccia O nuova ordinanza o diffida Il 95% delle ordinanze regionali Aggiunge Sono legittime Il restante 5% Deve essere modificato entro domenica Ma il caso Calabria È stata la scintilla di nuove frizioni Fra le regioni e il governo L'alto adice decide L'apertura di bar e ristoranti Dall'11 maggio E degli hotel dal 25 Mai andati oltre i decreti Afferma oggi il presidente del Veneto Luca Zaia Che comunque si dice pronto Per aperture differenziate Fra i vari territori L'idea che ci sono a Roma Rispetto all'apertura e chiusura Sono molto Come si può dire Sono molto tecniche Con scelte anche a volte complicate Che rischiano di infilarsi dentro Magari in qualche Via di non ritorno Perché quando metti troppi parametri Rischi di uscire dall'alto Del buon senso E poi finire in quello della matematica E la matematica È una scienza esatta Però bisogna saperlo utilizzare I comuni dal Cantolo Loro Si ribellano contro le regioni Troppo protagoniste Sostiene il presidente Del lancio Antonio De Caro Ma all'orizzonte Spunta un altro tema delicato Quello relativo alla possibilità Da lunedì Di ritornare a casa Per molti meridionali Residenti al nord I treni verso le regioni del sud Sono tutti pieni E in consiglio Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca Spiega la sua posizione Riteniamo indispensabile Che chi arriva Da realtà extra-regionali Io non ho indicato le regioni Realtà extra-regionali Segnali il proprio arrivo Al comune All'asl E vada in isolamento volontario Per due settimane Economia europea In caduta libera I numeri di Euro Stat confermano Le fosche previsioni Di molti osservatori E descrivono Una forte recessione Già in atto Nel primo trimestre 2020 Il PIL Si è contratto Del 3,8% Nella zona euro Del 3,5% Nell'Unione a 27 Il calo Più rapido di sempre In Italia Preoccupano i dati Sulla disoccupazione Secondo la stima provvisoria Dell'Istat A marzo Meno 27 mila occupati E sono moltissimi Gli inattivi C'è l'intesa Tra la CEI Ed il governo Sulla ripresa Delle celebrazioni Di funerali Regole precise Ma dal lunedì Si potrà dare L'estremo saluto Ai cari Luigi Ferraiola Ritorna la missa Almeno per i funerali Anche se solo Per 15 persone I parenti più cari Sono le disposizioni Concordate Dalla conferenza episcopale Italiana Con il ministero Dell'interno E il governo Per garantire Un momento Di grande importanza Nella vita delle persone Non solo spirituale Le esecue Adesso che parte La fase 2 Della pandemia Sarà possibile Celebrare missa In chiesa O all'aperto O al cimitero Da parte dei sacerdoti A seconda delle decisioni Concordate dal parroco Con la famiglia Alla presenza Dei parenti più stretti E' stato previsto Che prima dell'ingresso In chiesa Sarà necessario Controllare la temperatura Per chi l'avesse Superiore a 37 gradi e mezzo Non sarà possibile Partecipare alla liturgia Necessaria La mascherina Per la cerimonia E la distanza Di almeno un metro Tra tutti i partecipanti Alla santa messa Sarà il sacerdote Poi che raggiungerà I fedeli Per la distribuzione Della comunione ecoristica Solo sulle mani Mascherina ovviamente Anche per il parroco Quando distribuisce la comunione La chiesa dovrà essere Iginizzata regolarmente Mentre al termine Di ogni celebrazione Si dovrà favorire Il ricambio dell'aria Ove siano presenti Spazi donnei Contigui alla chiesa Si potrà prendere In considerazione La possibilità Di celebrare Le sequi all'aperto Con il naturale rispetto Di tutte le prescrizioni E sulla ripresa Del culto Ascoltiamo Il segretario generale Della CEI Monsignor Russo Al microfono Di Gennaro Ferrara A questo punto Cosa vi aspettate Dal governo Ci aspettiamo Delle risposte Che ci vengono date Anche Delle indicazioni Rispetto a delle dati In cui sarà possibile Celebrare Naturalmente Tornando a farlo In quelle Maniere che sarà possibile Tenendo conto Dell'emergenza Che ancora Stiamo vivendo Non si vuole Non si vuole mettere Fretta Al governo Né tantomeno All'accomitato scientifico Ma aspettiamo Delle risposte Che con l'attenzione primaria Alla salute Possano permetterci Di dare una risposta Anche alle comunità cristiane Desiderose Di tornare a celebrare Nei modi Nelle forme possibili In Chiesa Quindi non c'è Una differenza Di sensibilità Tra la Chiesa italiana E il Papa Credete entrambi In quella che Francesco Chiama La grazia Della prudenza Ma in realtà La sottolineatura Che Nel discorso Il Papa ha fatto Mettendo al centro E con l'attenzione Alla salute Delle persone Corrisponde All'attenzione Che in questo tempo Abbiamo tenuto In questi 50 giorni Dal momento In cui È iniziato Il cosiddetto Lockdown Abbiamo avuto Questa attenzione Specifica e primaria Alla salute Delle persone Anche nel confronto Con il governo Abbiamo sempre ricercato Di trovare le forme Per far sì Che questa Attenzione Da parte della comunità Cristiana Fosse elevata Al massimo livello E questa mattina Nella messa a Santa Marta Papa Francesco Ha voluto ricordare Le vittime del coronavirus In particolare Quelle rimaste Senza nome Ascoltiamo Le sue parole Preghiamo oggi Per i defunti Coloro che hanno Morto Per la pandemia E anche per Per i defunti Diciamo così Anonimi Abbiamo visto Le fotografie Delle fosse Comuni Il quadro italiano Giornaliera Degli attualmente positivi Che sono 101.551 Oltre 3.000 in meno Ovviamente al netto Di guariti e deceduti Che sono stati 285 Costante La decrescita Dei pazienti Ricoverati Nei reparti ordinari Ma soprattutto In quelli di terapia intensiva Che diminuiscono Per il ventesimo giorno Consecutivo Calo della curva epidemica E tasso di contagio Stabilmente sotto l'1 Sono fattori determinanti Dice l'Istituto Superiore Di Sanità Per tenere sotto controllo L'avanzata del virus E cominciare Nel miglior modo possibile La fase 2 Quella della graduale Riapertura Delle attività produttive Ma l'emergenza Non è ancora finita E distanziamento sociale E dispositivi di protezione Restano fondamentali Soprattutto perché Ci sono ancora Tanti positivi Spesso asintomatici Forse 10 20 volte Il numero di quelli conosciuti Che possono trasmettere Il virus inconsapevolmente Questione centrale Di primaria importanza In previsione Della ripartenza Lunedì prossimo Quando in centinaia Di migliaia Torneranno a lavorare Oltre 28.000 Le persone Che hanno contratto Il coronavirus Nei luoghi di lavoro In particolare In ospedali Fabbriche e aziende Tra marzo e aprile Sono stati quasi Cento I casi di decessi Per contagio Da covid-19 In ambienti di lavoro Denunciati all'Inail Intanto Per il ponte Del primo maggio Cresce il timore Che la gente Possa concedersi Eccezioni pericolose Alle restrizioni Soprattutto Per quanto riguarda Gli spostamenti Per questo Come a Pasqua E Pasquette I controlli Delle forze Dell'ordine Saranno potenziati Il fronte estero Del covid-19 Nel mondo Oltre 3 milioni Di casi Un terzo Negli Stati Uniti Più di 130.000 I morti In Europa Impennata Nel bilancio Delle vittime Nel Regno Unito Che sale A più di 26.000 Terzo paese Al mondo In cifra assoluta Dopo Stati Uniti E Italia Mentre il Brasile Supera la Cina Con oltre 5.000 morti Ma una speranza Arriva proprio Dal Regno Unito Dove sono a buon punto Le sperimentazioni Di un vaccino Mentre per gli Stati Uniti Potrebbe essere disponibile Entro gennaio Cesare Cavoni Il vaccino Contro il coronavirus Sembra sempre più vicino E porta anche I colori dell'Italia L'azienda italiana I.R.B.M. Collabora infatti Con l'Università di Oxford Per la messa a punto Di un vaccino Entro dicembre Dicono i vertici Dell'azienda di Pomezia Se tutti i test Trattano gli esiti Positivi Ci sarà un primo Stock di vaccino Anticovid Disponibile Per iniziare La vaccinazione Di alcune categorie Più fragili Stando così le cose A giugno Dovrebbe partire La prima fase Di test Su 500 volontari sani Se ci saranno Dati positivi Si passerà poi Ad un'altra fase Che prevede ulteriori test Su 5.000 persone Al momento Il vaccino È stato somministrato A circa 320 volontari sani E ha mostrato Di essere ben tollerato Intanto È già scesa in campo Una multinazionale Che si occuperà Della produzione Della distribuzione Del vaccino L'azienda punta Ad avere i primi 100 milioni di dosi Entro la fine dell'anno Dando priorità Alle categorie a rischio Ma anche altri paesi Sono le prese Con le ricerche Di un vaccino Anthony Fauci L'autorevole Virologo Della task force USA Contro il coronavirus Non esclude Che gli USA Possano arrivare Al vaccino Entro il prossimo gennaio Intanto Intanto Uno studio cinese Pubblicato Sulla rivista scientifica Nature Medicine Evidenzia che a 19 giorni Dalla comparsa Dei sintomi Il 100% Dei pazienti Analizzati Aveva sviluppato Gli anticorpi IgG Cioè quelli prodotti Durante la prima infezione Che potrebbero proteggere A lungo termine Questo vorrebbe anche dire Che il test sirologico Potrebbe essere utile Per diagnosticare I pazienti sospetti Risultati negativi Al tampone E identificare Quelli asintomatici A 38 anni Dall'uccisione Di Pio La Torre Di Rosario Di Salvo Desidero unirmi Nel ricordo Della loro esemplare Testimonianza Di impegno civile Ai promotori E ai partecipanti In collegamento Da remoto Alla manifestazione Di doverosa memoria Lo ha scritto Il presidente Mattarelli In un messaggio Inviato al presidente Del centro studi Piola Torre Vitolo Monaco In occasione Dell'anniversario Dell'attentato Al segretario regionale Del PC Freddato da un commando Mafioso Il 30 aprile 1982 Assieme al suo autista Dalla medaglia d'oro Alla cassa integrazione Il coronavirus Non ha risparmiato Neanche i campioni Della nazionale di nuoto Beatrice Bossi Ha raccolto il grido D'allarme Di Giusy Malato Capitano Del sette rosa Ad Atene 2004 Siamo in più al centro Miceli Valti Giusy Malato Il braccio Il pugno al cielo Quello che volevo vedere da lei Ci penso Ci penso spesso A quei momenti Anche perché La mia casa E i miei amici Sono i ricordi Di una vita Per cui Ce l'ho sempre presente Queste cose Giusy in acqua E con il sette rosa E con il sette rosa Alle olimpiadi Che abbiamo preso È stato quello Di febbraio I ragazzi Invece Degli istruttori Invece Alcuni Non percepiscono Da gennaio Alcuni Non percepiscono Si vengono Da febbraio Il coronavirus Non ha risparmiato Il settore sportivo E ha messo in ginocchio Anche Di tutto il settore Perché Il settore Non si sa Quando ripartirà Se ripartirà E come dovrà ripartire Quindi Siamo in serie difficoltà E tu Sei in difficoltà In questo momento Diciamo Io posso vivere In questo momento La possibilità O avevo dei soldi da parte Li sto sfruttando Finiranno Prima o poi Ma li sto sfruttando E ce li ho Bergamo Ringrazia Palermo A fronte dell'ospitalità Nel capoluogo Siciliano Per la quarantena Di 24 turisti Bergamaschi Compagni di viaggio Della prima positiva Al covid-19 In Sicilia Bergamo Ha donato Computer e tablet Per i bimbi Della scuola Giovanni Falcone Nel quartiere Zen Che senza supporti informatici Non potevano seguire La didattica A distanza A Napoli Si combatte Ogni giorno Per stare accanto Alle persone Più bisognose In difficoltà Nel servizio Di Alessandra Camarca La storia Di una parrocchia Che aiuta Quanti Non riescono A fare la spesa Abbiamo trovato Persone Chiuse in casa Che mangiavano salsa Per molti giorni Bambini Denutriti Abbiamo dovuto Scovare Alcune famiglie Perché non lo sapevamo Chiuse in casa Dalla paura Così padre Michele Madonna Parroco di Santa Maria Di Montesanto A Napoli Racconta Del bisogno A cui la parrocchia Sta rispondendo Nel quartiere Non tra i più agiati Nel cuore di Napoli Arrivando a raccogliere Mille pacchi Spesa al giorno Abbiamo iniziato Da solo Cioè la parrocchia Ha cominciato Però le persone Quando hanno visto Hanno visto foto Hanno visto Quello che è accaduto Hanno cominciato A sostenerci Anche economicamente Abbiamo sostenuto Persone Anche lontane Da questo quartiere Perché sono arrivate Tante telefonate Di persone Che avevano Veramente bisogno Tanti sono stati Pacchi alimentari Preparati per le famiglie Indigenti Tra questi Anche tanti Cittadini stranieri In difficoltà Soprattutto filippine Persone dello Sri Lanka In grave difficoltà Soprattutto per chi viveva Con lavoro nero E precariato Un anziano Chiuse in casa Un ammalato Chiuse in casa Avrebbe pensato Morirò da solo Morirò Nessuno si ricorderà di me E quindi abbiamo cominciato Con loro E quindi insieme Alle persone Del quartiere Io sono rimasto Sconvolto Quando alcune Associazioni Mi dicevano Che non avevano Volontari Qui i volontari Ci sono sempre stati E non si ferma La solidarietà Nell'emergenza Come testimoniano Le iniziative Dei volontari Della comunità Di Sant'Egidio Che restano Con gli anziani Anche grazie Alle videochiamate Luca Licata A salvare un'amicizia A salvare un'amicizia Non far perdere I contatti In queste settimane Di isolamento È stato uno smartphone Ricevuto in regalo Poco prima Che iniziasse L'emergenza Questa storia È solo una Delle tante Testimonianze Di volontariato Ai tempi Del coronavirus Irene Della comunità Di Sant'Egidio Da tre anni Si occupa Di assistenza Agli anziani Presso un istituto Di Roma Oggi Utilizza le videochiamate Prosegue il suo impegno Da casa Con l'obiettivo Di non lasciarli soli Adesso che c'è il covid Diciamo C'è stata un po' di difficoltà Intanto perché Non tutti gli anziani Magari hanno un telefono O magari riescono Ad utilizzarlo Hanno le capacità La videochiamata È stata una fortuna Perché avevo regalato Il mio telefono vecchio A un anziano Poco prima Della quarantena Proprio al fine Di combattere L'isolamento da covid Nasce il progetto Salviamo i nostri anziani Che punta E riflettori Sulle difficoltà Vissute Dai ospiti Degli istituti L'iniziativa È per cercare Di sensibilizzare Questa situazione Diciamo Abbiamo cercato Di prendere un po' La palla al balzo Sapere che sono Particolarmente In difficoltà Ci dispiace tanto Concerti a distanza Canzoni registrate Per solidarietà Orchestrali Che suonano da casa La musica Non si ferma Anche in tempo di pandemia Silvio Vitelli In tempi di isolamento sociale Lo sappiamo Le lezioni scolastiche Si tengono da casa In smart working Accade per gli allievi Delle elementari Medie superiori E anche per i corsi universitari Quello che forse Risulta meno scontato È che persino Per gli studenti di musica È così La tecnologia infatti Si è talmente evoluta Da permettere Non solo una videochiamata Tra più persone Ma persino Un intero concerto I ritardi tipici Nelle connessioni Audio-video A distanza Non spaventano Le nuove piattaforme E così Si riesce a suonare Tutti insieme Da luoghi diversi Lo sanno bene E anche allo storico Conservatorio romano Di Santa Cecilia Ecco negli allievi Alle prese Con lo studio Di Antonio Vivaldi C'è chi suona Dall'Italia Ma anche da altri paesi Austria, Turchia E persino Islanda Chi fermerà la musica? Cantavano i Poo La risposta Non la conosciamo Di certo però Sappiamo Che non sarà Il coronavirus Io vi lascio A TGTG L'informazione Torna domani Alle 18.30 Grazie per averci seguito Buona serata Con TV2000 E restate a casa Grazie per averci seguito